buongiorno monica siamo qui con madalina e olga che traduce buongiorno 5 4 3 2 dimmi come la vedi e non la vedo direttamente perché lei all'interno di un'armatura di ferro mai olga suoi quindi va bene così ok oltretutto lei tiene nelle mani che sono poi guanti di ferro una carta che è un asso di cuori ok con l'altra mano taglia un angolo della carta e mi dice che questo angolo è suo papà ok olga io preferirei che tu traduciarsi tutto perché sennò io perdo ritmo e quasi non capisco il filo insomma se vuoi fare un piccolo così magari anche i rumeni la capiscono questa sessione no va bene non credi di essere in grado ma va bene ti dà l'autorizzazione quindi sì 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 assolutamente solleva una parte della dell'armatura e vedo che gli occhi le brillano di sì con la testa tu inserisci ti olga quando vuoi io vado vibrazione 9 miliardi consapevolezza 140 ps 41 vite precedenti 1852 cervello 9 beh i valori progetto di abduction esiste in questo caso di mandalina ad alina come abduction no non la vedo non ha abduction nome del progetto di madalina viene caviale champagne nome della ps bellissimo agrifoglio mi fa proprio vedere il contrasto i colori complementari il rosso delle bacche il verde delle foglie la pie volontà bene chiamiamo nel cinema l'ex di madalina il nuovo compagno olga sì e tutti quelli che vogliono venire olga è emozionata e senti l'ex compagno piange il nuovo compagno mi viene con degli abiti del suo paese non occidentale la tunica bianca sera bianca 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 con il la corda nera c'è una corda nera non l'ho vista ha solo il turbante bianco e olga tra l'emozionato il coinvolto e anche con un senso di responsabilità olga è molto bella è proprio un cuore molto speciale a quanto vibra olga 54 che non si preoccupi non si deve preoccupare perché la sento un po agitata così stia tranquilla che va benissimo lei ha tutte le doti che servono in questo momento sia tranquilla olga non ha mai fatto una sessione e a 54 sì 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 va bene ci sono altre le amiche di olga ci sono sì tra l'altro vedo che proprio loro allora olga di più secondo me delle altre ha proprio capito cosa significa essere in unione con le persone proprio capito il significato della collaborazione dello scambio quante sono le amiche di olga nel cinema potrebbero essere cinque e anche sei eventualmente vabbè c'è qualcun altro la mamma di maddalina e allora c'è anche il papa è mio papà sì e come se non volesse farsi vedere che c'è e come fa a nascondersi e rimane in un angolo del cinema dove c'è poca luce va bene adesso accendiamo un occhio di bue una grossa luce su papà che lo segue e imbarazzo un po di senso di colpa e poi non so come se un po si vergognasse un po così infatti vedo che si copre il volto sai quando fanno i vip a volte no per non essere ripresi dalla telecamera un po così ci vuole dire solo una parola e mi fa vedere il taglio che maddalina ha fatto all'angolo della carta e dice sì è vero quell'angolo sono io per quello che la carta asso di cuore è incompleta va bene entità ma interferenze eteriche se ci sono allora c'è una volpe poi c'è tipo un topo però è un po' meccanico non è un topo naturale ed è del secondo universo questo c'è un gallo come falconiforme e poi effettivamente c'è l'interferenza del nonno materno quindi un gallo disincarnato il nonno materno si come disincarnato e le altre tu le hai sentite sì ma non me lo ricordo più mi sono distratto allora c'è una volpe un topo meccanico del secondo universo e un gallo falconiforme ed il direi due mentali ne abbiamo un po' parlato prima a me vengono due proverbi che sono moglie buoi dei paesi tuoi e poi anche vivi e lascia vivere e come altra entità mentale mi viene morbosità quindi sono tre e no come se quella dei proverbi sì è una e poi l'altra morbosità quindi ne vedo due a ok e olga vuoi tradurle queste che sono un po complesse e le ripeto allora moglie buoi dei paesi tuoi e so 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 e e vivi e lascia vivere che vuol dire rispetta le decisioni degli altri e fai la tua vita 3 3 3 3 perché i proverbi sono tutti diversi nelle lingue e bisogna sempre spiegare morbosità è una cosa morbosa è una cosa un po turbida un po può essere nell'ambito sessuale morbosità monica intricata complicata complicata intrecciata però anche se ma in ambito sessuale tu dici è relazionale relazionale ok e olga non so se vuoi non mi viene ancora la parola morbosità ok livelli vedo che hanno una forte interazione no l'una con l'altra perché me le fa proprio vedere con delle frecce che convogliano l'una sull'altra mi dà diciamo sono tutte e due fra il 3 e il 4 ok ok morbosità in rumeno è morbiditate morbiditate grazie lo hai capito grazie mille ok ok benissimo 3 4 come latino sì ma è molto latino e allora gli impianti abbiamo un impianto mentale che è fatto come un cerotto applicato su tutta la fronte poi mi viene denti adesso non so non abbiamo chiesto se lei ha avuto un po di problematiche e poi mi da spalla sinistra genitali genitali ginocchio destro e il piede destro stop ok esiste sicuramente vediamo se è collegata maddalina la l'entità mentale collettiva poliamore allora potrebbe essere nel suo caso e allora me lo fa vedere così che l'entità mentale collettiva in genere è messa sopra invece nel suo caso me la fa vedere messa tra parentesi rispetto a morbosità quindi potrebbe essere una delle conseguenze di morbosità ok ma non necessariamente per lei allora è vero che lei si è misurata con il poliamore no ma non la vedo così profondamente è desiderosa ancora di portare avanti il poliamore perché ha potuto vedere che si ritrova sempre con in mano nulla è come se lei avesse già esaurito questa esperienza ha visto sì ok può farlo la cosa non la fa soffrire più di tanto però allo stesso tempo le lascia anche un vuoto interiore quindi donne uomini etero come a fare un accordo comune perché avvenga questo questa grande egregora si porti specialmente fra i giovani in modo da portare in un certo senso a quello che sta vivendo maddalina questo senso di insoddisfazione di non appartenenza a nulla di non crescita interiore perché alla fine non crei nessun legame profondo e oltretutto spesso sviluppi delle ferite in altre persone perché spesso chi appartiene alla coppia o piccolo gruppo del poliamore soffre molto lo fa per compiacere qualcun altro ma di fatto si accrescono le basse vibrazioni perché c'è molta gelosia molto dolore perché è questo l'essere umano così come noi l'abbiamo creato per poi infilarci dentro come come anime e non è fatto per il poliamore adesso mi inimico tutti i poliamorosi ok allora per come la mia anima mi dà modo di vedere le cose è questo noi siamo qui per superare la dualità per arrivare all'uno ok allora questo concetto è stato distorto bene superi la dualità essendo in tre, essendo in quattro, essendo in cinque e invece no il concetto è fondere due persone integrarle e comprendere che uno più uno quindi la coppia può fare uno capito e perché non uno più uno più uno fa uno perché non uno più uno più uno fa uno allora uno più uno più uno fa uno ma non posta su questa linea qua se per esempio si tratta di un figlio se per esempio si tratta di un cane se per esempio hai capito due cuori diventano uno vanno esplorati chi tanto chi è pronta la vera onestà e autenticità e ha provato queste esperienze lo sa che le cose stanno così perché ha notato quanto è difficile mantenerlo ha notato i vuoti che si creano ed è fatto apposta per non creare nulla alla fine non si crea nulla non c'è profondità c'è molta competizione tra le persone oro e madalina lei non ne ha parlato a te è arrivato sì 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 assolutamente che era proprio una parte rilevante della sua vita allora la cosa che lei che mi arriva è che lei è molto potenzialmente animica come se lei percepisse il valore dell'oro non per il valore materiale dell'oro infatti lei non ne possiede ma perché ha una forte spinta a connettersi con la propria anima in qualche modo il nuovo compagno inconsapevolmente l'ha sentito e infatti le regala un oggetto d'oro che non è solo una questione si regalano gli oggetti d'oro alle fidanzate esatto non è solo quello tra di loro c'è un'affinità animica c'è indubbiamente anche se c'è una questione molto complessa anche dovuta a delle culture diverse e lui in parte ha agganciato alcune cose della sua anima però è come se nel rapporto Madalina avesse sfruttato questa occasione che lui gli ha dato di prendere maggiormente connessione con la propria anima cioè Madalina ha preso connessione con la sua anima ma adesso è come se questo compito fosse esaurito e infatti a lei si è rotto la catenina del gioiello che lui le ha donato il cuore pendente con catenina d'oro come se l'oro adesso dovesse rimanere in Madalina nella sua connessione con l'anima non più come connessione fra loro due perlomeno non come relazione lui ha dato quello che doveva dare a lei perché in qualche modo le ha fatto aprire delle porte anche nell'uscire dall'altra relazione comunque è stato importante perché era un passo che lei doveva fare causa esoterica della separazione appunto dall'ex più grande di lei lì c'è proprio infatti io non lo sapevo che lui fosse più grande però gli ho chiesto se in qualche modo lui era collegato al padre infatti lei l'ha sempre vista come una figura paterna perché lei ha proprio questo vuoto di questa figura del padre e non sa come andare a riempire questo vuoto allora prima l'ha fatto con quest'uomo più grande ma quest'uomo più grande non è il padre quindi di fatto la relazione è insoddisfacente ok perché non è il padre non è stato l'uomo giusto per lei e quindi dà insoddisfazione allora fatto lo step successivo di trovare un uomo che è suo coetaneo però ha tutta un'altra cultura e ha tutta un'altra strada davanti a sé ha una moglie decisa sì però allo stesso tempo anche questo ragazzo qua me lo collega come uno step successivo del padre io non so se suo padre aveva altre donne altre relazioni cose così non lo sappiamo ecco potrebbe essere un qualcosa di questo genere come se lei stesse andando a risolvere questo vuoto lasciato dal padre attraverso le sue relazioni qualcuno di questi due uno di questi due è la fiamma di madalina guarda sono entrambi importanti l'ex compagno io lo vedo che è stato veramente molto importante per lei ma non è la fiamma amorosa lui lo vedo ancora molto sofferente di questa cosa perché sperava in qualche modo di poterla tenere a sé e anche l'altro questo attuale anche se non non vedo adesso ancora tanto tempo che saranno insieme anche questo attuale è importante e questo attuale ha capito delle cose di lei per cui lei un po' si è sentita compresa ma nessuna delle due è fiamma è fiamma esiste la fiamma di madalina io vedo di nuovo tipo uno straniero lei è proprio in grado di integrare varie esperienze nella vita per esempio lei ha fatto degli studi molto legati alla logica alla razionalità alla mente però invece è attratta moltissimo dalla spiritualità e dall'anima e lei sarebbe anche in grado di coniugare la sua cultura con una cultura molto diversa adesso per esempio mi fa vedere qualcosa legato tipo a Israele non so così esiste quindi sì però lei è una molto creatrice per cui proprio all'insegna no della sua laurea in fisica è in grado proprio di spostare le particelle ok e poter creare sempre nuovi eventi quindi nuove configurazioni di rapporti nuovi incontri però vedo che lei ha molto bisogno di questo confronto e quindi può essere una cosa molto buona per lei che l'altro appartenga a un'altra cultura che le faccia vedere un altro mondo ecco ha fame di crescita sì sì moltissimo beh esiste la crescita su questo piano esiste la crescita anche su un altro piano esatto l'entità mentale collettiva poliamore le può dare crescita la risposta aspetta la risposta è sì solo se dietro c'è un progetto dell'anima che siamo noi e che siamo i capi ma tu mi hai detto che ci sono interferenze dietro poliamore ci sono le mani la tavola rotonda esatto lei ha bisogno di una mente aperta non di una coppia aperta ma fino ad ora ha fatto un po' confusione fra le cose allora ha pensato che la mente aperta corrispondesse a una coppia aperta ed è questo su cui anche hanno giocato l'entità se tu sei avanti se tu hai una mentalità aperta sei per la coppia aperta sei per il poliamore ma lo fanno apposta a creare questo tipo di confusione fra i piani ma il poliamore comprende anche la fiamma o bisogna scegliere per esempio adesso che tu mi hai fatto questa domanda mi ha fatto vedere alcuni gruppi in cui c'è la fiamma ipotesi sono quattro persone tra queste quattro persone ci sono due fiamme e poi si spengono stando all'interno del cerchio si spengono si spengono cioè non lo sono più e se uscissero dalla tetrade quindi da questa coppia a quattro relazione a quattro adesso mi fa vedere che una fiamma vuole altra fiamma magari non vuole perché comunque hanno deciso di fare esperienze così insomma un casino poi può essere che io ho i miei limiti mentali che mi faccia vedere le cose così io non non pretendo di avere la verità in tasca io dico quello che la mia anima mi consente di vedere va bene in poliamore l'entità mentale collettiva poliamore vale per tutti o è solo quella di madalina quella che vedi cioè è una nuvola a cui è collegata madalina giusto con un filo ci sono altri fili o è solo la sua no no è tantissimi altri in espansione tra l'altro ok open relationship threesome poliamore sono tutte lì dentro sì sì sono aspetti quali altri vedi flexi cos'è flexi la posizione yoga flessibilità ecco è il ponte yoga tu lo sai fare il ponte sì ebbè dai cosa no spiegare in ospedale poi flessibilità ok poi come si vedono queste entità mentali collettive come le vedi oggi mi fa vedere una macchia d'olio mi fa vedere per esempio adesso arrivano cose un po' sparse no molti social che portano esperienze proprio di ragazze anche molto giovani che esplorano il poliamore parlando con una terminologia di amore con una terminologia molto new age come per esempio bisogna superare le insicurezze bisogna superare il possesso l'amore si moltiplica tu non possiedi nessuno l'altro è libero tu non puoi soddisfare tutte le necessità di una persona occorrono più persone accetta questo incrementa il dialogo in modo da poter trovare un accordo fra tutti quanti dividiti la giornata un po' con questa un po' con quell'altra un po' con quell'altro creiamo una piccola comune questo è il futuro chiama nel cinema Monica Lana Wachowski oh che spiacevole ma dunque mi vengono in due versioni un maschile e un femminile esatto il regista di Matrix e di Sense8 serie Netflix che tu non hai visto penso hai visto? non non posseggo Sense8 cioè Sense8 8 infinito sensazione due stagioni mi sembra e beh tra le tante tematiche affrontate divulgate c'è proprio poliamore anche tra uomo donna 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 uomo uomo alle sacco di scene di orge che hanno fatto molto scalpore e sono ovviamente piaciuti ai più giovani in modo esagerato tu l'hai visto Maddalina Sense8 hai visto? sì 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 non attivare più il microfono però perché sennò è un casino tranquillo tranquillo bene chiamala chi le ha detto di fare quella serie dove si mischia poliamore varie tematiche aiutami come si dice genderfluid anche sì sì no ma il leap state ok varie tematiche di state ha la sensazione all'avvertire le cose al sesto senso il terzo occhio l'otto è il sesto senso sesto senso perché sono i sensate loro no quelli nuovi che vengono perseguiti perseguitati da dei uomini del tempo dei smith no tempo un po' lo stesso concetto i cattivi che vogliono annullare la nuova generazione la nuova umanità e questa la nuova umanità guarda vi vengono anche alcune divinità induiste sempre nel secondo universo che mi porgono la parola tantra il tantrismo proprio nella sua forma distorta è anche proprio questo vivere la sessualità per raggiungere dei poteri delle facoltà per comprendere la realtà a livello più profondo ma anche questo è una distorsione perché per come lo propongono loro al contrario ti porta all'esterno solo al godimento sensoriale a un'illusione di espansione della coscienza ma è molto utile questo perché ti crea l'inganno di evolverti attraverso questa promiscuità l'han giocata bene chi fa l'ana ho visto che lei è andata con un lungo braccio è arrivata al centro di questo tavolino dove le mani si congiungono vuole afferrare la parola tantrismo e portarla giù monica lei è nata davvero uomo e poi ha cambiato sesso diventando donna o cosa è successo lì sotto cosa c'era e cosa c'è allora a me viene il dubbio di non una persona persona cioè non non la vedo come una persona naturale no 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 cioè non è un essere umano non so viene non un essere umano cosa è possibile è come se fosse già in parte transumana quindi ibrida quindi non è nata con un sesso adattabile proprio perché non essendo come noi umani no che abbiamo oggettivamente una materia così ok più plasmabile invece ha un utero ha dei testicoli come se non fosse come se non fosse né uno né l'altro non può avere cioè può averli ma non per esempio per la riproduzione no perché non non funziona come gli esseri umani ecco non avrebbe la stessa funzione non mi fa ridere perché utilizza sai le espressioni del che noi conosciamo come G8 G9 eccetera mi dice G21 chi le ha detto di fare la trilogia Matrix ma lei adesso mi fa vedere Odino mi fa vedere Computer It sopra perché le hanno detto di fare questo film smarrimento mi dice crea proprio uno smarrimento perché è un suggerimento ok per le persone di dissolversi in questa maniera è proprio una dissoluzione sia come la intendiamo noi morale sia proprio una dissoluzione proprio mentale e coscienziale ed è proprio quello che vogliono loro ok l'esatto opposto della concentrazione noi abbiamo bisogno della concentrazione per venire a contatto con la nostra anima e concentrarci anche su una sola persona per riuscire ad arrivare all'uno mentre se attui questa dissoluzione chiamiamola dispersione facciamo l'esatto opposto quindi ci distanzieremo sempre di più dall'anima e dall'uno col poliamore dici sì sì col poliamore che è un aspetto il gender fluid e l'altro aspetto sono tutti i modi per per perderci ecco ma chi le ha detto di fare la trilogia matrix il film perché è lei con l'altro fratello ma sempre lei lui lei ma l'altro fratello è veramente reale perché in realtà me li fanno vedere come il doppio hai presente il concetto del doppio non come se fosse un'altra persona ma una specie di proiezione mi dice tipo ordini superiori no come una canalizzazione tra virgolette no sì sì ma gira che ti regira l'abbiamo chiesto noi di essere risvegliati e loro sono piegati ovvio devono dirtele le cose male confuse nessuno ha capito il secondo e il terzo film continua a non essere chiaro c'è una grossa confusione basterebbe dirle in modo chiaro le cose invece non bisogna dirle mai in modo chiaro va bene la mettiamo lì le c'è sta nel cinema o se ne va ma chi nel cinema no lei non è nel cinema no 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 non entra le dama il cinema no sì ma non questo ok se tu volessi farla entrare spingendola a forza monica ce la faresti no perché lei ha proprio l'ordine di non attivare il discernimento apse no 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 allora una serva se ne vada certo vada pulire i bagni bene siamo noi i capi non questa serva qua chiamiamo la nonna e nonno materno di madalina sì il nonno viene proprio come dovrebbe essere un papà in un certo senso iper premuroso dolce accudente io ti dico che madalina ha intuito giusto no sul fatto che il nonno è proprio sempre lì accanto a lei infatti lei lo sogna molto spesso ma ti devo dire che lei ne ha bisogno perché avendo questo vuoto del padre diciamo che è un po' un accordo fra loro due fra lei e il nonno perché il nonno lo fa veramente volentieri per la sua nipotina ma lei ha bisogno di questa figura maschile qua quindi non è che lei lo vuole far andare via e lui vuole andare via no ok c'è un timing noi siamo ancora un anno un anno bene facciamo un accordo allora apriamo portale aureo per la nonna materna che adesso vediamo come si presenta mi viene con il grembiule da cucina credo che abbia trascorso abbastanza tempo in cucina cucinare continuamente per tante persone sempre in cucina io non lo so se Maddalina però ha ereditato questa cosa mi sembra di no mangiava non cucinava ognuno ha il suo ruolo dai come cosa dice la nonna erano proprio altri tempi nostri certe cose io non le riesco a capire mi fa vedere la semplicità del cibo che se le persone si occupassero di più di contattare il cibo fin dall'origine raccoglierlo pulirlo tagliarlo cucinarlo capirebbero molto di più la vita e la realtà senza perdersi in storie assurde lei è come se avesse capito tante cose cucinando mettendo insieme gli ingredienti i sapori i profumi come era in grado anche di tenere unita la famiglia attraverso il cibo una bella cosa molto persa questa era connessa al poliamore alla nonna almeno nelle intenzioni ma mi fa vedere come per esempio gli ingredienti fra di loro metti adesso sta facendo uno spezzatino ma non so se è uno spezzatino vedo delle patate vedo della carne delle carote cose così anche del brodo eccetera mi fa vedere come questi elementi fanno l'amore fra di loro ma non occorre che questo avvenga per le persone si può distinguere fra i piani non so mi mostra questo che piatto ti mostra questa un misto tra una zuppa una zuppa di carne può essere zuppa di carne un po' che sembra un nostro spezzatino però un po' fluido ecco così con della verdura anche sì 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 ci sono le patate c'è la verdura ci sono pezzi di carne c'è del sugo rosso molto anche complesso come piatto tanti ingredienti tu lo sapresti fare sono biscotti sono esperta in dolci si biscottare va bene va bene diamola a una vicca anche se è un po' inutile alla nonna ha capito tante cose questa signora chiediamole di lasciare che carina si pulisce le mani nel grembiule perché non vuole allungare la mano verso di te sporca te la vuole proporre pulita grazie è molto educata gentile la prende sì 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 lei è sulla terra come marito non so mi dava che stava ancora cucinando però me la dava come se stesse cucinando cioè un po' strana l'immagine no per queste persone che anche loro disincarnate che hanno avuto tipo dei problemi legati o all'alimentazione o al fatto che i loro genitori non preparavano loro da mangiare perché erano troppo impegnati in altre cose ecco me l'ha data così cosa vuole dire al marito Kelly non ho capito se avevano per certi aspetti delle vite come dei binari parallele mi fa vedere un binario un treno quindi che comunque sono vicini no perché comunque i binari del treno cioè poi comunque non puoi fare a me uno dell'altro però allo stesso tempo me li fa vedere paralleli anche se mi fa vedere queste come le listarelle sai che congiungono i due binari cosa vuole dire al marito circa il fatto che il marito è con Madalina a fare le veci del padre no lei va bene cosa vuole dire Madalina prima di andare se vuole andare tesoro sei tutto l'oro del mondo vuole andare perché il nonno le dice una cosa però ascoltami quando ti faccio vedere delle cose nei sogni a Madalina perché sì è come se Madalina si concentrasse di più sull'aspetto affettivo ho sognato mio nonno eccetera eccetera e si lasciasse un po' scappare alcuni messaggi che il nonno gli dà nei sogni e allora lui gli dice fai più attenzione prova a mettere un poco da parte il discorso affettivo e osserva tra le righe no vai un po' più in profondità cosa ti mostro cosa le ha mostrato per esempio che è sfuggito all'attenzione di Madalina credo che le abbia detto alcune cose rispetto alle relazioni le abbia fatto capire delle cose però lei si è più fatta prendere da questa cosa anche un po' tra virgolette infantile sai l'affetto il nonno che è il mio papà che non mi ha calcolato sai queste cose qui non ha badato lei adesso deve concentrarsi di più in questa cosa in mezzo un po' più in profondità poi anche rispetto a alcune cose della sua professione forse gli ha fatto vedere poi tipo forse che gli ha messo le mani in testa per non so come dirti per sciogliere alcuni collegamenti neuronali lei è molto intelligente eh Madalina però è come se avesse non so come dirti alcuni collegamenti neuronali meno attivi è come se il nonno volesse un po' aiutarla e farle capire che lei li può accendere questi collegamenti e quindi anche rispetto al discorso lingua lei può sbloccare questa cosa va bene salutiamo la nonna tutti i parenti di tutte le generazioni che vogliono approfittare dell'occasione come la nonna le lascia un piatto molto abbondante proprio stracolmo di cibo so poi mi fa vedere queste patate queste sono un po' bollite che è tutta una cosa succulenta vicino anche dei fiori non so perché gliel'ha un po' abbellito con dei fiori quanti arrivano nel portale Aureo allora mi fa vedere che la nonna grazie a tutto questo cucinare che lei ha fatto per i disincarnati ne ha tirati parecchi e mi dice 815 quindi in totale non solo parenti quindi no 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 assolutamente cini, amici passanti tutto e il nonno c'è? no 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 adesso vuole stare con Madalina ok chiudiamo il portale Aureo allora sì il nonno resterà con Madalina tu che puoi vedere nel tempo nell'area temporale fino a quando? perché lo sanno questo dipende molto da lei sai e allora più lei riuscirà a comprendere a estrapolare proprio no vedo che lei che può estrarre delle informazioni e degli insegnamenti e più il tempo si accorcia mediamente mi dice un anno però si potrebbe dilatare a due anni o si potrebbe accorciare a sei mesi è proprio una cosa loro di loro due lo sa il nonno che questo non è il suo posto comunque sì sì che lo sa lo sa Madalina che questo non è il suo posto sì che lo sa ok Madalina oggi è giovane ma è un'anima che non ha un'età lo sa lo sa vogliono fare questo gioco lo facciano però siccome non so se poi Madalina vorrà fare una seconda avventura insieme il nonno le deve promettere di restare con lei un tot di tempo fino a quando fino a quando lei avrà dissolto il senso di vuoto causato dal padre ok quando questo avverrà e avverrà giusto si avverrà lui risponderà a uno dei nostri richiami delle nostre sessioni all'apertura del portale auguro e andrà insieme a tutti quelli che chiamiamo certo ok riesce a vedere il momento senza dirci quando così non ci condizioni lo vedi vedo che devono avvenire delle cose importanti nella vita di Madalina ma vai a per un momento qualunque questo sia dopo qualunque altro avvenimento lui prima di entrare cosa dirà cosa farà lo fa Madalina vedo che è una cosa intima avviene tra loro due cioè lui lei lo invita sì e come si salutano non so la vedo che tipo come se fosse fatto un viaggio non so se sta per fare un viaggio se è al ritorno di un viaggio dove lei ha una comprensione più ampia di tutto e allora questo viaggio le fa capire che lui è pronto per quell'altro viaggio come è vestito lui per quest'occasione lo vedo addirittura con la cravatta e con il cappello in testa c'era il cappello e se lo toglie quando saluta sì 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 è galante questo momento che non è ancora avvenuto Madalina ma verrà quindi è come se fosse già avvenuto per noi abbiamo una visione di quello che sarà allora non lo salutiamo perché resta qua con noi dimmi solo se crea delle problematiche fisiche emozionali se insomma interferisce con Madalina beh come interferenza eterica abbiamo visto di sì ma diciamo che c'è a volte un'esplosione di emotività in Madalina perché è come se a tratti Madalina sentisse che solo lui la può capire capisci bene che questa è una roba un po' un po' strana perché lui adesso appartiene ad un'altra dimensione e sentire che è solo una persona che appartiene ad un'altra dimensione ti può capire e a volte ti fa sentire insoddisfatto di tutti gli altri no ecco questo direi come bene causa esoterica dell'insicurezza e dell'insoddisfazione Monica diciamo che le sue entità mentali sono proprio finalizzate a questo lei è proprio una giovane allora molto avanti rispetto ad altri suoi coetanei però in qualche modo lei subisce molto l'influsso di questo deep state che vuole controllare i giovani proprio in questa direzione qua farli studiare molto poi non dargli magari una grande realizzazione lavorativa far sì che non si realizzino neanche affettivamente lei un po' subisce questo influsso perché è molto potente molto canalizzato su di loro però dalla sua che lei avverte che c'è qualcosa che non va lei avverte questa insoddisfazione lei avverte che può andare oltre le entità eteriche le entità mentali lei avverte il bisogno di connettersi con la propria anima e sentire lì la completezza e la soddisfazione e l'appagamento va bene come vedi la connessione con poliamore solida no 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 già in lei non era così solida però è come se mi avesse cancellato la parola la prima parte poli e fosse rimasto solo amore ok si è staccata da sola sì qualunque cosa siano le entità mentali o mentali collettive devono essere in sintonia con noi quindi in sintonia con noi è la spirale che acudiamo una forma spirale una forma conchiglia poi ognuno sceglie come vuole in ogni caso noi mettiamo la nostra impronta animica in tutto quello che ci circonda questo gioco marcio che deve implodere e che imploderà quindi se vuoi come monica se non lo faccio da solo metto una d'eterno una spirale dentro l'entità mentale collettiva poliamore trissama open relationship flexi orgia come sei antico bisogna essere moderni tutte queste entità mentali collettive sotto mentalità collettive interne intersecate esterne a poliamore hanno un dentro adesso da adesso in poi un unico grande ad eterno spirale a forma bella di conchiglia madre perlata monica è come se si trasformasse questo poliamore in amicizia è come se ritrovasse un valore puro sano evolutivo amicizia e basta senza smuta andamenti sì sì bene madalina cosa vuole fare dove vuole andare cosa ci vuole dire cosa si vuole dire sì sì io sono qua per andare al cluster assolutamente che lo faccia mi importa tipo come se fosse un mare in cui ci sono delle navi che affiorano e altre invece che stanno affondando alcune più piccole altre più grandi sì e che fa tiene le navi tiene il mare toglie tutto lascia tutto lascia quelle che affondano tiene quelle che affondano viceversa sai che cosa mi ha fatto mi ha fatto praticamente ha trasformato il mare in una specie di vortice e questo vortice la punta del vortice l'ha portata dentro il portale definitivo così poi va a risucchiare tutto quanto e nel complesso tutto va a finire nel portale definitivo modo molto creativo sì molto intelligente lei lo è ha visto cosa ho fatto prima io compreso con la creazione energetica se forse mi ha detto anche delle formule penso che lei la conosca anche da altri punti di vista un po' più tecnici rispetto a come io posso capire perché mi ha fatto vedere un disegno anche con delle geometrie dei numeri ecco sì sì ha compreso molto bene quanto avevi in fisica Monica ma è che fisica no no l'ho portata alla maturità sì 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 beh allora no dai ah ci avevate fisica non mi ricordavo sì è vero pensa e quindi quello ha fatto ad eterno sì 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 assolutamente avatar come lo vedi non lo so perché mi ha dato di nuovo questa immagine un po' della marina perché mi ha fatto vedere solo la testa dell'avatar con in testa un cappello da qualche graduato della marina probabilmente in collegamento al cluster quindi ai suoi contratti che fa? toglie? eh lei dice non naufrago più adesso io smetto di essere naufraga che non è male come cosa da dire diciamo non si fa salvare da nessuna nave no basta SOS niente quindi elimina tutto qua neanche qua attraverso un portale definitivo va bene anche qui una d'eternum e quando l'ha fatto mi dici se ha ancora l'interferenza del gallo della volpe del topo i due dl e le due entità mentali no no il nonno il nonno c'è ok per sua scelta vibrazione di madalina finale che mi dà 377 consapevolezza valori sempre più alti ormai 195 ps 56 vite 1243 cervello 9.6 c'era una vita che madalina ha vissuto con olga e c'è se c'era c'è ancora mi porta in un luogo molto selvaggio dove vedo che loro sono tipo a fare non so una vita di gruppo di comunità le vedo molto in un concetto di comunità è che olga in questa vita ha declinato attraverso le amicizie e la collaborazione lei madalina in un altro modo l'abbiamo visto tutta questa sua complessità di rapporti eccetera e in questa vita qui c'è proprio un'ottica di comunità quindi vedo che si dividano i compiti che ci sono proprio dei momenti rituali tutti insieme molto completa come tipo di vita c'è ancora questa vita sì 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 assolutamente stessa domanda per l'ex caspita che storia mi hai detto l'ex pensa che mi è venuto l'ultimo ma invece l'ex tu sicuramente intendevi l'altro allora dunque facciamo l'uomo più più grande no perché per te sono già due ex vedi già due ex o la catenina rotta ira funesta del fatto ma sai semplicemente perché Madalina è entrata in un'altra frequenza in un'altra in un altro mood allora io non escludo che Madalina possa ancora avere esperienze più vivaci no rispetto alla media non lo escludo questo ma non è più questa non so la vedo che sia abbastanza esaurita va bene ci sono tante altre vite messaggio finale di Madalina a se stessa mi sto scoprendo immensa e mi sto scoprendo senza mancanze completa perfetto abbiamo finito vediamo solo la frequenza di Olga 180 bene Monica sei pronta a tornare sì sì sì